Oh Sandrone! Come c'è? Come è successo? Siamo andati tutti sul water! Ma che water Sandrone! Ascolta c'è la gente lì che ci guarda! Guardatemi e non toccatemi! Ma no non toccatemi! Guardatemi e mettetevi la mascherina! Ma la c'è sta la mascherina! Siamo qua per ringraziare! Grazie, gratiamoci tutti insieme! Ma no! Ringraziamo perché ci hanno dato un contributo! Cos'è che ci hanno dato? Ci hanno dato un contributo per poter fare in modo che il teatro torni a teatro! Ma come? A teatro si torna a teatro? Ma se siamo a teatro dove candema? Fuora dal teatro? Ma no! A teatro perché il teatro è chiuso! Eh! E per aprirlo ci vuole il contributo! Sì! E poi ci vuole che ci permettano di fare gli spettacoli! Beh! E allora? E allora ringraziamo la gente! Grazie signori perché se ci saranno ancora spettacoli a Caselle Landi sarà grazie a voi! Grazie! Prego! Torneremo insieme! Ciao a tutti! Ciao a tutti!